gentili telespettatori buona giornata abbiamo sempre parlato del partito democratico come di una scatola vuota un'area politica un partito chiamatelo come volete perché il pd alla fine non è nient'altro che una fusione di alcuni partiti ecco il pd che sembra un partito in realtà era un'area politica di diversi partiti fusi poi da quell'area politica ci sono state le scissioni calenda renzi di nuovo i comunisti italiani quindi quel partito che era la somma di tanti partiti piano piano si è si è disfatto ma oggi chi si candida a guidare questo partito democratico non è tanto differente da chi l'ha guidato prima ecco per guidare una scatola vuota ci vuole una persona vuota senza idee o presumibilmente senza idee un partito dominato da correnti che non ha un programma che non ha una visione per il futuro chi si propone oggi per la sua segreteria sembra tanto una riedizione di quelli che ci sono stati fino adesso persone che non dicono e non hanno niente da dire e un primo indizio su questo è dato da da questa line che si candida alla guida del partito democratico e che realmente e che realmente va da da fazio